da questo lato i ragazzi che partiranno dalla panchina cioè non so che cosa è successo, che è successo qualcosa ragazzi a chi? a Emanuele, oddio povero Emanuele Emanuele si è preso una pallonata allo sterno qui in fondo c'è Matteo, il nostro portiere cercate di non farvi male qualcuno che lo riscaldi, qualcuno che lo riscaldi Nicolò valla a riscaldare Matteo da quest'altro lato c'è la formazione gli 11 titolari che scenderanno in campo dal primo minuto e si torna con la palla, via via via, ritmo bene sta palla, bene sta palla, dai perrucci grazie a tutti grazie a tutti